Ciao ragazzi e bentornati sul canale del coach. Come state? Spero bene. Oggi avete previsto di allenarvi? Perfetto! Allora, oggi voglio presentarti tre esercizi micidiali per andare a intaccare il retto addome e gli obliqui. Spostami subito di qua, velocemente. Ok, mentre tu stai per guardare questi tre esercizi, prova a spiegarti bene come seguirli per avere una maggiore efficienza e quindi una maggiore efficacia. E la terza parola qual è? Sicurezza. Efficienza, efficacia e sicurezza. Ricordati sempre queste tre parole. Nel primo esercizio, cosa molto fondamentale, cercare di manco sì come anche negli altri tre, è importante mantenere l'addome sempre chiuso. Se guardi la mia schiena è sempre piatta, non flette mai e non si inarca, cosa molto fondamentale. Quindi chiudi forte l'addome, ok? Nel secondo esercizio varia la stessa cosa, ma cerchi l'obliquo inserendo proprio il ginocchio verso il gomito opposto della gamba. Cerca proprio di infilarlo bene dentro, mantenendo sempre le braccia perpendicolari, come puoi notare. Invece sul terzo esercizio c'è un jump, un jump, crunch, reverse. Anche qui, importante non flettere la schiena. Se guardi bene, c'è la schiena sempre piatta, quindi ho l'addome sempre costantemente contratto. Questo lo puoi fare semplicemente se sei educato abbastanza e ovviamente a fare questa chiusura di addome. Se non sai di che cosa sto parlando, sotto ti lascerò il link. Vai a vedere un video che ho fatto su antelo e retroversione del bacino. Ti insegnerà a fare questo movimento per mettere in sicurezza qualsiasi esercizio che tu vai a svolgere e, in questo caso specifico, anche negli addominali. Spero che questi tre esercizi ti possono essere utili. Se c'è qualche problema, hai qualche dubbio, vuoi farmi qualche domanda, quando vuoi parlare con il coach, mi scrivi giù nei commenti. Se ti fa piacere, ti piace nei tutorial del coach, così come anche altri commenti, lascia un bel mi piace o al massimo poi ti iscrivi al canale attivando la campanellina, così da non perderti tutti gli altri, mi pare che si dice così ormai. Io ti ringrazio di essere stato da queste parti e ci vediamo alla prossima e allenati bene. Ciao!